La città è riconoscente per l'impegno e le attività promosse e sviluppate in ambito sportivo, formativo, ricreativo ed ambientale a partire dall'ottano 1970 e per aver saputo affermare nel tempo sul nostro territorio una vera cultura di conoscenza, di pratica e di attenzione verso il mondo della pesca e verso il rispetto e la valorizzazione dei nostri fiumi e dell'ambito ambientale fluviale di generazione in generazione tenendo sempre al centro dei propri obiettivi i giovani pontremolesi e lunigianesi nel loro importantissimo ruolo di costruttori del domani. Grazie.